Eh sì, Fabio Pecchia che oggi ha annullato il quinto match point, stavamo dicendo, perché come diceva lui alla vigilia era al suo quinto ultimatum di questo campionato. Però prima di intervistarlo vorrei far vedere a voi e anche a lui queste immagini che abbiamo girato prima dell'inizio della partita. Qui fuori possono partire le immagini con il montaggio del collega Matteo Faccenda. Una protesta che doveva esserci subito dopo la resa, chiamiamola così, di Benevento. I tifosi avevano aspettato la squadra all'aeroporto, però poi la squadra era stata fatta uscire da una porta secondaria, quindi si sono dati appuntamento oggi qui, prima dell'inizio della partita. Saranno stati circa 300, con la polizia come vedete in tenuta antisommossa, con uno striscione molto eloquente, recitava Conigli, era chiaramente rivolto ai giocatori. I tifosi avrebbero voluto che i giocatori scendessero dal pullman, entrassero a piedi nello stadio per assumersi le loro responsabilità e come si dice in questi casi metterci la faccia. Poi invece è arrivata la svolta in campo, grazie anche al fatto che Fabio Pecchia ha cambiato sei unità e quindi il campo gli ha dato ragione. A Fabio Pecchia voglio chiedere fondamentalmente questa protesta quanto è servita, quanto servirà il ritiro che farete di nuovo da mercoledì e quanto invece c'è stata proprio una svolta interna dopo, lo ricordiamo, tre sconfitte con 11 gol subiti in 270 minuti, che non era una situazione allegra. La situazione l'avete vista, la squadra, io credo dopo la brutta prestazione di Benevento, la reazione c'è stata oggi dovuta, ahimè lo dico in questo modo, dopo le dimissioni del nostro direttore sportivo che ha avuto anche a malincuore, visto che lavoriamo insieme qui da 20 mesi, di dare una scossa al gruppo, allo spogliatoio. Io credo in questo senso ci sia riuscito perché oggi è vero che ci sono stati dei cambi, ma al di là dei cambi c'era un'anima diversa nel gruppo, nella squadra e la squadra ha reagito ottenendo una vittoria importantissima. Studiamo. Appunto su questi cambi, tutti i complimenti per la vittoria, quando un allenatore decide di cambiare sei giocatori, come bene sottolineava Francesca Sanipoli, vuol dire che vuole dare davvero una scossa, o che qualcuno non informa, o che c'è qualcuno nella squadra che non la segue come vorrebbe lei. Perché dovendo dare un giudizio sul Verona di questi ultimi due mesi, per esempio io mi trovo in grande difficoltà, perché ho visto delle belle prestazioni, ho visto dei momenti di amnesia, dove la squadra era completamente irriconoscibile rispetto alla domenica prima. Perché è questa sua scelta? Intanto venivamo da tre partite in una settimana e quindi anche nella gestione delle risorse fisiche, psicologiche. Oggi è entrato un ragazzo dalla primavera come punta, Tupta, era la seconda sua presenza in Serie A, lavorano con me e poi faccio le scelte. Sono una questione di avere in questo momento chi ha più energie fisiche, ma soprattutto mentale, per affrontare uno stress che va al di là della partita solo, ma poi di tutto quello che si vive. La nostra difficoltà è evidente, è quella di dare continuità nei risultati, ma la nostra squadra, una squadra ricca di giovani, zeppa e questo, in un momento più importante, più delicato, poi abbiamo perso anche delle pedine importanti. Quindi questi alti e bassi io credo facciano parte di una normalissima squadra che deve lottare per salvarsi. Ma il ritiro continua? Non ho capito se il ritiro continua o no. Sì, sì, da mercoledì, da mercoledì riprende. Benissimo, benissimo, almeno.